Vuoi portare benessere ed armonia nella tua casa? Ci pensa Inno Living con i suoi diffusori di aroma ad ultrasuoni. Un piacere per tutti i sensi, grazie alla diffusione di aroma e luce colorata in grado di offrire un graduale relax e cambiare l'atmosfera di ogni ambiente, donandole nuova vita. Basta aggiungere qualche goccia del tuo olio essenziale preferito e potrai attivare la funzione aromaterapia. Piccolo e maneggevole, ti permette di tenerlo dove preferisci. Diffonde senza alterarli i principi attivi naturali contenuti negli oli essenziali per una piacevole sensazione di benessere a casa tua. Con la pratica alimentazione con cavo USB sarà semplice utilizzare il tuo diffusore.